La Galignani come tutti gli anni ha fatto diverse migliorie sul prodotto già esistente e ha creato modelli nuovi. Uno di questi è la CH35 che è un modello assolutamente nuovo che è nel segmento professionale delle macchine camere fisse. Ha implementato molte altre cose funzionali sulle macchine già esistenti per esempio il sistema di sicurezza che è un sistema che deve adeguare assolutamente una normativa che è andata vigente già l'anno scorso. Quindi siamo l'unica azienda che oggi ha presentato questo tipo di progetto. Sarà introdotto e implementato probabilmente già da gennaio e quindi saremo a oggi l'unica azienda che recepisce questo tipo di normativa. Un'altra cosa che i nostri tecnici faranno già dalla prossima campagna è implementare tutti i brevetti in essere in Galignani anche nelle macchine aziendali e non solo quelle professionali. Per esempio quello che si vede qui a destra il doppio infaldatore che è un brevetto Galignani del 2010 verrà implementato anche sui modelli medi sia camera fissa che camera variabile. L'altra cosa importante di Galignani è lo sviluppo di macchine combinate. Una di queste è al padiglione 48 è una tricombinata quindi una macchina che può fare sia raccolta sia pressatura sia avvolgitura del prodotto con la stessa macchina. Ha vinto la novità tecnica quindi siamo fieri di questo e siamo fieri anche di dire che è un progetto che è stato finanziato e sarà ulteriormente finanziato per essere poi implementato su altre tipologie di macchine. Quindi questo ci rende merito del fatto che non siamo mai fermi e che siamo sempre alla ricerca chiaramente da azienda italiana siamo sempre alla ricerca del meglio che c'è da offrire ai nostri clienti sia italiani che esteri. Vi ringrazio di essere venuti a visitare il nostro stand, ringrazio anche a nome del mio titolare e sono assolutamente convinto che l'unica soluzione sia quella di crederci e di continuare a investire in ricerca e sviluppo. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.